Ma è al di là ora dell'eufonia della Serie B, sapevamo sempre che comunque Castellamare è sempre una piazza che piace a ogni giocatore giocare. Ora ancora più felici perché, come ho detto a te, siamo riusciti a portare Castellamare dove merita, siamo riusciti veramente insieme ai tifosi tornare questa passione, questa bella cosa che abbiamo visto in questi ultimi partiti. Sperando che veramente il futuro ci riguardi ancora tante belle cose perché questa sì è la vera Castellamare, bella da vedere e da giocare e da definire questa maniera. Avete fatto tornare il sold out per la seconda volta al Menti, è una cosa che raramente si vedeva negli ultimi anni, è anche merito vostro, questo entusiasmo, la città di Castellamare si è svegliata tutta con un'ora di Diggio L'Abbri. Eh certo, grazie a Dio è andato tutto bene, è andato tutto per il verso giusto e dall'anno scorso, da gennaio, come hai detto tu, quando sono arrivato che comunque puntiamo su cose importanti e grazie veramente a un gruppo meraviglioso, voi direttori, il mister, tutti quanti, veramente non c'è nessuno che non vada bene, tanta roba veramente. Ecco Bruno, una cavalcata eroica a partire da lontano ma soprattutto dal gruppo. E' certo, ma credo che una cosa che abbiamo sempre parlato è stato questo, che comunque noi avevamo un gruppo meraviglioso all'inizio, che ci rispettavamo a vicende e robe così, quindi alla fine siamo riusciti a portare a casa, credo, quello che abbiamo meritato e lavorato per farlo. Ecco, è stato allora un spirito di gruppo, nel momento più difficile, dopo i pari con i riediti e bisceglie, a permettervi in effetti lo scatto finale? E' certo, quello, non solo in quelle partite, è stata la nostra forza tutto l'anno, come è capitato per esempio con la Sicola, che quelli che sono entrati hanno cambiato la partita, quindi il nostro gruppo era molto forte e rimanerà così per sempre, perché veramente siamo delle belle persone.